Ecco, oggi è martedì 5 settembre, mister Gabriele sovraintende all'allenamento dei nostri allievi Con la casacca rossa scendono Riccardo del Bello, Alessio Ceroli, dietro c'è Cristian e Bartolo, Enrico e Luca C'è Andrea, Guido, Lele, Nicola, Karan, Teidi, Amedeo e Michele per ultimo, ecco mi fa un sorpasso Michele Allora mister, è una settimana di allenamento, come trovi i ragazzi? Procediamo abbastanza bene, stiamo sicuramente avanti con fronte all'anno scorso facendo un rapporto per la parte atletica L'anno scorso eravamo veramente ridotti un tantino male, quest'anno stiamo molto bene, molto bene Peccato aver saltato il nostro programma a Rosello, adesso potevamo stare veramente bene Però stiamo procedendo bene, il gruppo è sempre più compatto, è sempre più molto, ma molto organizzato dal punto di vista del lavoro C'è nel senso che si sacrificano tanto, quindi hanno voglia di lavorare, hanno voglia di mettersi in luce sotto tutti i punti di vista Questo è un aspetto importante, perché nel calcio, visto anche oggi i giovani che hanno questa poca voglia di lavorare Invece io ho un gruppo strepitoso, ho un gruppo strepitoso, quindi ok Ok, mi riprendo a posto Ecco qua il gruppo Un'altra discesa è salita del gruppo dei giovanissimi Abbiamo Alessio, Riccardo, Cristian, Nicola, Bartolo, Caran, Enrico, Luca, Michele, Guido, Lele, Andrea, Amedeo e il capitano Teddy Ecco, ripartono in salita, hanno messo la seconda Ok